C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte. Un posto a cui apparteniamo, che possiamo chiamare casa. Dove ogni legame è forte e ogni ritorno è una promessa. Dove le radici sono profonde. La nostra gente, i loro occhi. La nostra pietra. La nostra storia. I nostri racconti. Le nostre conquiste. Venga una voglia, una voglia, e va... Niente. La nostra arte. I piccoli e i grandi progetti. Di quelli con lo sguardo, rivolto al futuro. È qualcosa che ti avvaglia. Com'è un faro nelle tempeste. Qualcosa che ti rimane dentro. E che vive in noi. Ogni giorno. Mola di Bari. Una storia tutta da scoprire.